Lei tiene la targa, tra una settimana fate il cambio. Nel frattempo guardiamo tutti insieme la pubblicità, ci vediamo dopo. Acqua, ghiaccio e... ristora. Ho tanta voglia di te. Chiamo il signor sindaco al telefono. Ma cosa è questo? Sì, quello del peccato originale. Non capisco, ma cosa volete, maledetto? Prova da poco, una basecola, solamente che mi porti con te in Russia. Questa volta si trattava di un vero e proprio ricatto. Peppone, sei morto? Su Rete 4, il compagno Don Camillo, mercoledì alle 20.35. Papà, guarda quanto latte bevono. E tu perché non inzuppi? Perché a me piace morderle. Le macine più stanno nel latte e più sono buone da mordere. Il giusto spessore in un biscotto tutto da inzuppare. Per un piacere unico, tutto da gustare. macine e murino bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Ottima raccolta, signori. Ecco la borsa weekend. Ecco lo stereo portatile, con cassa e cuffia, naturalmente. Promozione Kuwait. Serviti e premiati. Diverse persone, diversi one day. Da Bayer, gli integratori specifici di vitamine e minerali per ognuno di noi. One day, giusto per te. Coldo presenta... Fresco e bello. Maxi freddo e meglio. Maxi freddo super isolato Zoppas. La porta! Zoppas li fa e nessuno li distrugge. Scusi, ma lei cosa ci fa qui? È chiusa. Controllavo che quest'acqua fosse ancora perfetta come l'ha creata la natura migliaia di anni fa. Guardi, solo qui, all'interno di un vulcano spento, l'acqua diventa così effervescente. Comunque è ancora buona come allora. Bravi! Guardi che noi non abbiamo fatto niente. Appunto. Ferrarelle. L'unica così. Lo sai, i tuoi capelli sono a rischio ogni volta che li lavi. Perché i capelli bagnati sono più fragili e il pettine li può spezzare. Pantene Pro-V li lascia sani, più forti. Così si spezzano meno. Pantene è il primo shampoo fortificante alla provitamina che penetra dalla radice e rafforza i capelli fino alla punta. Lasciandoli sani, splendenti e più forti. Pantene Pro-V, per capelli così sani che splendono. Niente li rinforza più di Pantene. Oggi, seconda tappa dell'ottantesimo giro d'Italia. E' fortuna c'è il giro d'Italia che passa domani sotto casa mia. Rete 4 si collegherà dalle 15 per seguire la corsa rosa che lascia il Veneto e arriva a Cervia dopo oltre 200 km di pianura. In questa frazione saranno favoriti gli sprinter, ma non sono da escludere i colpi di mano. Ottantesimo giro d'Italia, seconda tappa, Venezia-Cervia. Oggi alle 15 su Rete 4. Un appuntamento Australia, Sport & Groundware.